Sono veramente contento di essere qua, anche se pensavo qualcosina di bene la prossima volta Non pensavo di avere tutto questo seguito, perché ogni tanto mi faccio odiare, però sotto sotto vengo apprezzato Allora la Darsena dove fare? Noi come Darsena facciamo un applauso meritantissimo E quest'anno, ve lo dico già adesso, faremo di tutto per mettervi dietro ovunque Noi ci proviamo, ma comunque sapete che anche se io arrivo secondo tifo per voi Sempre, sentate sognare